Fiamme nella notte al chiosco Il Bincanto, il locale di Filippo Malatesta nel parco De Andrea Villa Verucchio in Bialdo Moro tra il campo da calcio e la chiesa parrocchiale. L'allarme è scattato intorno all'1.35 poco dopo l'orario di chiusura e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sette unità e il nucleo investigativo antincendio. Pesanti danni alla struttura in buona parte distrutta, complesse e lunghe le operazioni di spegnimento e messe in sicurezza dell'area. La zona è stata transennata e in tarda mattinata si è provveduto a demolire la copertura in legno carbonizzata e pericolante. Ancora ad appurare le cause del rogo, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e la polizia locale. Si lavora su diverse ipotesi a partire da quella dell'atto doloso. Filippo Baschetti in arte malatesta è conosciuto per la sua carriera di cantautore ma è anche imprenditore e organizzatore di eventi. A Verucchio è stato anche assessore ed è candidato alle prossime amministrative cittadine e come consigliere della lista Verucchio Mia a sostegno del fratello Roberto Baschetti.